La nostra organizzazione si occupa di audit, certificazioni, ispezioni, controlli e formazioni da oltre 150 anni. La sostenibilità è uno degli elementi cardine, offriamo servizi in ambito salute e sicurezza, energia, ambiente, responsabilità sociale e anche rispetto a tutta la catena del valore. Siamo associati al network dal 2006, quindi fin dall'inizio. Per noi è stato sempre un elemento fondamentale far parte dei sustainability makers, proprio perché crediamo nell'importanza del networking, del scambio, dell'interazione tra le parti e nel senso di crescita comune.